Ciao Gnari, Castanedolo, Capodimonte, questo è l'altro, posizione tranquilla, palazzini annospesi condominiali, una casa bellissima, ah che roba, soggiorno, guarda quante finestre, super luminoso, eh, da finire, arrustico, però è già bel face, dopo i vetri, ci sono gli impianti, eh, lo finite come volete, vista, spettacolo, soggiorno grandissimo con zona cucina open, poi, zona notte, bagno, bel grande, face, camera matrimoniale, bella, luminosa, grande, da vedere sul posto, altra camera matrimoniale, eh, affare, affare, 65 mila euro da finire, non telefonate dicendo, ah, oh è pronto, no, è arrustico, devi fare i pavimenti, rivestimenti, eh, due robe, metti le porte, 65 mila euro, arrustico, non perdere, l'occasione, 030 279 1765, agenti immobiliari uniti, Gnari, 030 279 1765, mega affare, mega affare, 65 mila, eh, arrustico, eh, con poco vi tirate fuori un appartamento, face, bello, bello, festa, Gnari, telefonate, non perdete l'occasione, 030 279 1765, correte, ciao.